Google Plus è stato il tentativo di Google di creare un altro Facebook perché rispetto al business sui contenuti che abbiamo visto Facebook ha spostato il business su che cosa? Qual è il core business di Facebook? No, quello non è il core business. Quanto è di Facebook? Cioè cos'è che... Le relazioni. Quindi sul fatto che tu e lui vi scrivete o tu pubblichi una cosa e lui dice figata e tu gli rispondi però tu sei un bastardo. Su sta cosa qui voi state creando un contenuto relazionale. Quindi avete una relazione. Accanto a quella roba lì che lei viene a vedere pur io penso che è un bastardo però non glielo dico accanto c'è una pubblicità. Lei ci fa clic sopra e Facebook guadagna. Quindi il core business di Facebook sono le relazioni. Google ha portato questa cosa ancora oltre e dice io controllo tutti i contenuti. se controllassi anche le relazioni ma che figata sarebbe? Perché io potrei capire dalle relazioni tra le persone ancora meglio quello che alle persone interessa. Quindi lei dice a lui oh ma voglio fare la bicicletta guarda che figata la primavera. Ah lui è vero ti vuoi fare la bicicletta? Io ti consiglio l'Atala. Oh ma mio fratello mi ha consigliato. Allora quando lei va sul sito dell'Africa vede la bicicletta perché ne ha parlato con lui. Come nella tua email vedi Gmail vedi le pubblicità rispetto a quello che è scritto nell'email. Quindi è un meccanismo ancora più raffinato. Il nostro modo di fare le relazioni online diciamo tutto questo sembra molto mostruoso sembra tutto orientato dal punto di vista commerciale.